vado allora Luciano De Cecco MVP non lo dico io lo hanno detto i giornalisti presenti grande prova la tua grande prova di squadra soprattutto che poi anche per te immagino sia la cosa più importante in un campo difficile si MVP la squadra in realtà questi tre partite non sono facili soprattutto contro un avversario molto importante come Monza che abbiamo messo giù dal primo sede i primi palloni fino fino alla fine quindi un complimento grande tutta la squadra tutta la staff abbiamo preparato la partita molto bene e niente dobbiamo continuare dobbiamo continuare voglio restare ancora un attimo su questa partita pochissimi eroi da parte nostra direi che la continuità nel gioco è stata forse l'arma decisiva beh dobbiamo fare una partita molto solida per per combattere loro per non lasciare giocare anche i loro mezzi quelli attaccanti forti che ciano quindi penso che siamo riusciti qualche errorino un po' diciamo tonto l'hanno commesso il primo set ma più lì che si è messo la partita punto a punto ma dopo aveva avuto il contro della situazione anche sui palloni importanti grande prova del Riccio un'altra volta di tutti quanti soprattutto ma siamo siamo bene senti chiudiamo con una battuta ci hai preso gusto con questi primi tempi con Riccio lui sta andando bene subito che premiarlo se sta allenando sta facendo un grande lavoro è molto importante nel mio schema di gioco quindi diciamo che si merita tutto quello che sta succedendo fino adesso e speriamo che continui a migliorare grazie Luciano